La collaborazione con Aperitivo Corto è nata in maniera spontanea, naturale, perché per un incontro che ho fatto con Alessandra, della quale avevo sentito parlare perché, lo posso dire, è cugina di una mia amica, e ci siamo rincorse per quasi un anno, perché io sentivo parlare di lei e lei sentiva parlare di me, e poi finalmente, quando è arrivato il momento giusto, ci siamo incontrate ed è nata questa collaborazione, della quale sono molto felice, perché come spesso, ce ne parlavamo prima veramente, di quanto la gente creativa che c'è a Palermo, e ce ne sono tante, non hanno la possibilità di fare vedere quello che fanno, che sia in qualunque settore, anche nell'arte, nelle sue varie forme. E Palermo ha veramente bisogno di prestare un pochettino di attenzione, un po' più sulla creatività. Questa per me è anche una finestra per affacciarmi a persone che non mi conoscono, perché sono una nuova stilista locale, quindi ancora non sono conosciuta, e quindi per me è un motivo anche per farmi conoscere. È un onore che i miei vestiti vengono così indossati da Alessandra, che li porta benissimo, è veramente bello guardarla indossare i miei vestiti, per me è un piacere. Grazie.